In Italia siamo quasi 60 milioni, con l'esattezza 59 milioni e 400 mila, è il dato che emerge dal 15esimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni che ha come data di riferimento il 9 ottobre del 2011. Rispetto al 2001, quando si contarono quasi 57 milioni di residenti, l'incremento è del 4,3%, da attribuire esclusivamente alla componente straniera, come rileva l'Istat, che sottolinea una sostanziale diminuzione degli italiani. Ce ne sono 25 mila in meno rispetto a dieci anni fa. Le donne sono più degli uomini, il rapporto è di 93,7 uomini ogni 100 donne, mentre cresce anche la percentuale di popolazione degli over 65, che è passata dal 18,7% al 20,8. Sono di più gli ultra 85 anni, in particolare si registra un aumento del 78,2% nella classe 95-99 anni e addirittura del 138,9% in quella degli ultracentenari. Le persone di oltre 100 anni erano 6.300 nel 2001, nel 2011 ne sono state censite 15.000, con una percentuale di donne pari all'83,7% e un'età compresa fra i 100 e i 109 anni. Cresce il numero dei bambini iscritti agli asili nido comunali o sonvenzionati, anche se la quota di domanda soddisfatta è ancora limitata rispetto al potenziale bacino di utenza e soprattutto cresce la spesa per le famiglie. È uno dei dati che emerge dal rapporto sulla coesione sociale 2012 dell'Istat, IMS e Ministero del Lavoro. I bambini degli asili nido sono passati dal 9% dei residenti tra 0 e 2 anni nell'anno scolastico 2003-2004 all'11,8 nel 2010-2011, con quasi 158.000 iscritti nelle strutture comunali, mentre altri 43.800 in strutture convenzionate o sovvenzionate dal comune. E tra il 2004 e il 2010 aumenta anche la spesa corrente per asili nido. L'incremento registrato è del 44%, che scende al 26,9% se calcolato a prezzi costanti, mentre cresce la percentuale di comuni che offre un servizio di asilo nido sotto forma di strutture comunali o di trasferimenti alle famiglie che usufruiscono di strutture private, passando dal 32% del 2004 al 47% del 2011. Per i bambini la giusta quantità di latte è di due tazze al giorno. Ne sono convinti i ricercatori del St. Michael's Hospital di Toronto, che hanno cercato di capire come il latte vaccino andasse ad incidere sulle riserve di ferro e di vitamina D, due dei più importanti nutrienti nel latte, nel corpo di oltre 1.300 bambini, di età compresa fra i 2 e 5 anni. Dallo studio è emerso che i bambini che bevevano più latte avevano livelli di vitamina D più alti, ma minori riserve di ferro e la conclusione è stata che due tazze al giorno di latte vaccino siano abbastanza per mantenere adeguati i livelli di vitamina D per la maggior parte dei bambini e contemporaneamente tenere buone riserve di ferro. La ricerca ha inoltre rilevato che i bambini con pelle più scura potrebbero non avere abbastanza riserve di vitamina D durante i mesi invernali, ma questo si potrebbe ovviare, secondo gli esperti, assumendo supplementi di vitamina D in modo da preservare le riserve di ferro senza necessità di aumentare la dose di latte. Quest'anno a Natale gli italiani sono pronti a spendere quasi 2 miliardi di euro per i giocattoli. Le stime arrivano dalla Camera di Commercio di Milano, secondo cui per un italiano su 8 i giocattoli rappresentano la voce di spesa più importante e un giocattolo importato su 2 viene dalla Cina. Ma bisogna fare massima attenzione perché per i più piccoli costituiscono una potenziale fonte di rischio. Facile infiammabilità, scarsa resistenza alla rottura e allo strappo, tossicità, eccessivo rumore o indicazione errata nelle fasce d'età. Sono infatti solo alcune fra le infrazioni contestabili a fabbricanti e importatori. Per questo la Camera di Commercio attraverso l'iniziativa Guida Bimbi Sicuri si è impegnata in tal senso su due fronti, quello della vigilanza del mercato con prelievi di prodotti da sottoporre a test di conformità e quello dell'informazione preventiva rivolta a imprese e consumatori. Cresce la spesa sanitaria fra il 2000 e il 2010 da 69 a 110 miliardi di euro. Aumenta il ticket pro capite da 14,3 euro nel 2009 ai quasi 22 euro del 2011. Non diminuisce il boom delle attività cliniche e di laboratorio, oltre un miliardo di prestazioni in un anno. Eccessivi di sprechi sui trapianti, 50 centri dislocati in tutta Italia e con pochi interventi ciascuno. È questa la fotografia scattata dal compendio Sanità in Cifre presentato in Senato da Federanziani. Nulla di invariato anche quest'anno riguardo ai costi e agli sprechi del Servizio Sanitario Nazionale. Questo è il dato inquietante che emerge dal compendio, giunto alla sua sesta edizione, elaborato dal Centro Studi di Federanziani. Il compendio mette sotto osservazione i bilanci delle ASL, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricerca e le banche dati del Ministero della Salute delle Regioni e dei vari organismi che si occupano del comparto. Il timore è che gli sprechi resistano e vengano invece tagliate le prestazioni. Noi possiamo dare un contributo se siamo messi nelle condizioni di farlo, la palla è nelle mani delle regioni perché con il minimo di impegno, introducendo la medicina d'iniziativa in tutta Italia in modo più sistematico possibile, noi siamo in grado di ridurre con percentuali a due numeri i ricoveri per le malattie croniche e quindi produrre immediatamente dei benefici economici ma soprattutto anche di salute perché poi ogni ricovero evitato vuol dire che è una persona che non ha un problema.